Ed eccola qui la nuova Dacia Duster 2022, probabilmente il SUV straniero più amato dagli italiani che viene appunto presentato in anteprima europea qui all'interno della Dacia Arena per appunto ricordare e celebrare questa solidissima partnership del costruttore di auto legato appunto al gruppo Renault con la squadra calcistica dell'Udinese. Vediamo qui appunto la vettura posizionata a bordo campo una Dacia Duster che si si aggiorna soprattutto dal punto di vista estetico si presenta subito davanti con un nuovo motivo ad Ypsilon qua per i gruppi ottici anteriori motivo ad Ypsilon ovviamente con tecnologia led nuova anche la mascherina che riprende appunto questo maggior aggressività nelle linee che appunto Dacia ha presentato insieme al nuovo logo che purtroppo non compare ancora qui al centro della mascherina ma che appunto vedremo debuttare su quella che sarà la Dacia Duster di nuova generazione che sarà presentata però solamente verso la fine del prossimo anno quindi verso la fine del 2022. Questo invece è semplicemente un aggiornamento di gamma in attesa appunto del suo successore possiamo sempre ritrovare le classiche dimensioni perfette quindi 4 metri 36 di lunghezza per 1,80 di larghezza per più di un metro e 60 di altezza un'auto perfetta per qualsiasi tipo di esigenza dalle famiglie giovani alle famiglie chiaramente più affermate un'auto buona anche per effettuare spostamenti in ambito urbano ma non disegna chiaramente i viaggi dimensioni appunto che la collocano quasi di diritto all'interno del segmento C delle vetture ma come ben sappiamo Dacia appunto il punto forte del costruttore rumeno è chiaramente il prezzo che quindi la colloca di diritto praticamente nel segmento B più che altro appunto guardando listino prezzi le sue rivali dirette possono appunto essere ritrovata all'interno del segmento B quindi una vettura che gioca a fare quella più grande ma in realtà comunque il punto forte di Dacia quindi la sua accessibilità la rende chiaramente più accessibile anche a chi ha meno possibilità diciamo di di spendere senza però compromettere quella che è una vettura chiaramente estremamente versatile a 360 gradi una vettura che appunto è piaciuta tantissima la clientela italiana perché chiaramente riesce a racchiudere ampio spazio al suo interno delle un design che anche con questa nuova generazione si aggiorna molto possiamo anche vedere qui nel posteriore sempre il motivo y led che viene ripreso anche dal nuovo gruppo ottico posteriore che non varia la sua forma esterna quanto più il motivo interno dicevamo una vettura che è piaciuta molto perché appunto riesce a racchiudere tanto spazio accessibilità dal punto di vista del prezzo ma anche tecnologia sotto tanti punti di vista tecnologia per quelli che possono essere appunto gli ADAS che non arrivano di diritto fino al secondo livello di assistenza ma comunque presentano un buono appunto famiglia di sistemi di assistenza alla guida che ci rendono chiaramente la vita molto più facile tra le altre novità che troviamo appunto su questa dacia duster 2000 gamma 2022 anche questo nuovo modello per i cerchi in lega che in questo caso sono da 17 pollici anche qui il motivo a y viene ripreso appunto in linea con quello che è il nuovo logo che vedremo sulle prossime letture del costruttore romeno a parte questi piccoli dettagli non viene più di tanto stravolto il design della vettura ricordiamo anche una vettura che nelle sue configurazioni off road quindi con trazione integrale 4x4 presenta anche degli angoli specifici molto interessanti perché grazie alla sua altezza da terra di ben 21 o 22 mm a seconda delle versioni agli angoli appunto dicevamo specifici 30 gradi l'angolo d'attacco circa 34 gradi l'angolo d'uscita e 21 gradi l'angolo di dosso risulta essere anche un'auto decisamente pratica per chi ha particolari appunto esigenze per effettuare appunto dell'off road o magari per riuscire a superare qualche strada bianca un pochino più impegnativa che metterebbe chiaramente in crisi alcune vetture un'auto che si aggiorna tra l'altro di poco ma anche all'interno perché possiamo vedere chiaramente l'abitacolo a cui dacia ci ha sempre abituato sul sul suo duster volante che ripresenta praticamente le stesse forme a cui siamo già stati abituati anche per quanto riguarda le sedute troviamo una finitura in tessuto sicuramente molto più pratica e sfruttabile rispetto a quella in pelle ma la novità appunto principale risiede qui all'interno dove troviamo il nuovo sistema di infotelematica da 8 pollici che si aggiorna tra le altre cose anche grazie a un nuovo monitor specifico per la modalità appunto 4x4 che grazie alle telecamere perimetrali ci consente di appunto vedere ciò che sta succedendo intorno alla vettura quindi per affrontare in modo più direi sicuro e facile anche quelle che possono essere delle strade non battute quindi come dicevamo prima una vettura anche pensata per chi vorrà fare dell'offroad un pochino più appunto intenso notiamo qui al centro tra l'altro anche il nuovo cambio automatico edc a 6 rapporti un cambio automatico doppia frizione che sarà disponibile sulla motorizzazione appunto benzina top di gamma che viene introdotta con questa nuova generazione un tc e 150 cavalli appunto un 1300 4 cilindri turbo benzina che andrà ad aggiungersi a una gamma motori completamente diciamo rivista in ottica anche euro 6 di full che appunto presenta un mille tre cilindri benzina da 95 o 130 cavalli entrambi abbinabili al cambio manuale se rapporti il secondo quindi quello più potente disponibile anche con la versione 4x4 troviamo anche il propulsore diesel il 1500 dci da 115 cavalli anche questo disponibile con la trazione a due o quattro ruote motrici ma la cosa più interessante è che sicuramente troviamo anche la motorizzazione una delle motorizzazioni più interessanti per la clientela italiana che è chiaramente quella a gpl una motorizzazione che è piaciuta tanto a noi utenti del bel paese perché appunto con i suoi 100 cavalli quindi un sempre a un mille tre cilindri turbo ma alimentato anche dal doppia possibilità di aggiungerci anche il gpl consente appunto di risparmiare qualcosina dal punto di vista del nostro portafoglio ci consente di arrivare fino a quasi 1200 e passa a chilometri di autonomia sommando quelli che sono i circa 50 litri di serbatoio benzina e circa 62 litri di serbatoio gpl che è stato appunto aumentato per assicurare maggior possibilità diciamo di per viaggiare agli utenti italiani incrementando quella che è l'autonomia e massimizzando quella che può essere il quindi la praticità durante durante i lunghi viaggi parlavamo poi di praticità appunto una vettura decisamente accessibile ma con volumi sicuramente da vettura superiore infatti anche per quanto riguarda il vano di carico il bagagliaio si parte da ben 460 litri un piano di carico estremamente regolare quindi abbastanza direi squadrato senza particolari impedimenti unico piccolo vincolo è questo scalino all'accesso ma la realtà di fatti è che levando anche quella che è la cappelliera che si può piegare in due parti sia un vano di carico sicuramente importante abbattendo poi la seconda fila di sedili si ha accesso appunto uno spazio superiore a 1500 litri una vettura appunto comoda sotto tantissimi punti di vista anche per quanto riguarda l'abitabilità posteriore in questo caso vabbè il sedile del passeggioro è spostato molto indietro quindi vediamo un po ridotto quello che è lo spazio tra panca posteriore e appunto sedili anteriori ma già guardando lo spazio tra i sedili anteriore sulla posizione di guida e la panca posteriore vediamo che c'è un discreto spazio per le gambe novità tra l'altro per i passeggeri posteriori e anche l'introduzione di due nuove prese usb appunto dedicate alla seconda fila di sedili che sicuramente vanno ad accrescere quella che è la dotazione tecnologica di una vettura appunto pensata per massimizzare la praticità e la facilità di utilizzo anche durante i lunghi viaggi quindi queste due prese usb sicuramente saranno molto importanti anche immaginiamoci durante un viaggio con la famiglia i più piccoli che sederanno dietro potranno appunto ricaricare i propri dispositivi e non arrivare appunto a destinazione senza il loro tablet pienamente carico una vettura che appunto al momento non è ancora diciamo dotata di un listino prezzi che verrà comunicato solamente nel mese di settembre quando verrà lanciata ufficialmente quindi direi che da questo video in anteprima della nuova dacia duster 2022 è davvero tutto il nostro appuntamento e alla prossima prova